FIDARSI BENE MA NON FIDARSI MEGLIO RIVALUTARE UNO COSA ANZIONAMENTE NON DARE FORSA LA VOCCE DELL'INFULSO E SE VA MALLE PUAI RIMETTERCI LA METTE FIDARSI BENE MA NON FIDARSI MEGLIO Ci sono... Buonasera! Allora, oggi sono in un stile molto... ...diconto, perché facciamo una ricetta fantastica e finalmente sono tornata operativa, quindi... Ciao papà! Allora, adesso come vi dicevo già settimana prossima faremo tre video a settimana quindi non mi piace vederli stavate domenica Vieni qua! Io vi disque però... Ciao a tutti! Non so cosa faremo stasera Vedo già lì una cosa congelata che io non mangerò Ma no? Ma no! Allora, facciamo una pasta al caffè con gaberetti e lime Una roba un po' particolare E facciamo pure la pasta, perché dove c'è la macchinetta... Perché è una pasta al caffè, quindi ho comprato già la pasta pronta e la preparate voi Va bene, facciamo la pasta Allora, prima cosa in assoluto che dobbiamo fare è prendere i gamberetti, perché questi ci mettono un po' Vedi che hanno tanta acqua dentro Sono congelati ancora E li mettiamo subito in padella A poco basso però A poco alto A poco alto Devono togliersi di farlo Che ne so io, non devi farlo Va bene, a poco alto così si scioglie Date la prima volta a poco alto Quando incomincia a togliersi, a sciogliersi il ghiaccio, allora bastate Tanto ci starremo a fare la pasta di farla bruciare, quindi va bene, ok Andiamo avanti Allora, per la pasta servono 300 grammi di farina 60 grammi di caffè a temperatura... Farina qualsiasi o...? Farina 00, comunque scegliete voi la farina che più vi aggrada 60 grammi di caffè a temperatura ambiente E tre uova Ok Allora, tenete conto di andarci piano con le uova Nel senso che avendo già tanto liquido Nella recetta dicevo di metterci tre uova Io incomincierei con una e pian piano veglia Infatti con questo tre uova ho detto qua, mi sa che viene una pasta mollissima Togliamo tutti gli anelli Che se vuoi impastare Visto che è tornata operativa E allora via tutto Vediamo se ce la fa, eh? Oh... Se ce la fa... Forse... Forse sì, forse ce la fa Come forse? Non ce l'ho detto perché... Ecco... Direi... Cioè si spoglia in diretta praticamente, no? Ma ti ricuccherà Ok Quindi prendiamo la farina Facciamo a contare come al solito per cui, no? Sì Prendiamo un pianale di legno come questo che è un po' più comodo Per non sporcare dappertutto Lo spianiamo Facciamo spazio Ok Quindi un pianale che è bello comodo Prendiamo la farina Ok, la mettiamo al centro Ci facciamo un buchetto in mezzo E poi cominciamo a metterci che cosa? Il caffè Io direi Prima il caffè Ok Va bene Non sapevo se l'ordine fosse lo stesso Io... Ma tutto quel caffè lì Sa fare enormemente di caffè E una pasta al caffè Il problema è che a me non piace il caffè Quindi Allora intanto io mescolo i gamberetti Sì perché si stanno sciogliendo No Ok Ho fatto un disastro Ha fatto un disastro Perché non si fa così Mamma mia Si mescola piano piano Cioè Vi rendete conto? Mi sono distratto Dieci secondi per girare Guarda che casino ti hai già fatto No Allora asciugiamo subito Ho fatto un disastro Guarda Asciugiamo subito qui Un macello qua Avete capito che sono diventato Sono lì per parte operativa? Sì infatti Adesso prendi dentro trovo questo caffè Perché se no Ok Io sono contento Così sa meno di caffè Ok E poi a questo punto c'è un aggiungimento di uova Pian piano sì Allora cominciamo con uova intere Sì Prendiamo la prima Ok Cominciamo ad amalgamare la prima Andate con un uovo alla volta eh Allora una ragazza Letizia Ci ha chiesto se possiamo fare il cloud bread un giorno Sì Allora sposta tutto in mezzo Perché se non sia mia e caffè un po' Lo facciamo per terra Ok Vediamo un po' Ci mettiamo il secondo Visto che il primo Sembra ormai amalgamato Aspettiamo un attimo per il terzo Vediamo se è necessario oppure no Esatto Comunque quando mettete la farina E poi cominciate ad aggiungervi il liquido Quindi le uova oppure il castel O con le mani O con una forchetta Cominciate al centro della Della farina Amalgamare la farina Amalgamare la farina con il liquido In modo tale La far assorbire e non far andare in giro per la cucina Come ha fatto lei un attimo fa Adesso c'è poca farina mi sa Infatti stavo guardando per fortuna Che di uova ne abbiamo messi soltanto due Allora Tua amalgama La farina non l'hai portata qua No ma perché Sarebbe stato troppo Troppo intelligente Sì infatti Voi divertite da guardare Lei che ama il tutto E io vado a prendere la farina Ma dai insomma Sì guarda È il primo giorno Aviate vietà Guarda anche la spatola E così almeno Tiriamo via anche perché C'è tutta attaccata Ha un colore che pensavo diventasse più scuro Invece non viene tanto scuro Però vabbè Saprà abbastanza di caffè Sono un po' piena Di pasta Sulle dita Quindi adesso Vieni in fretta Che sono piena di pasta Dappertutto Comunque se non l'aveste notato Sono tornata operativa Giusto perché Qualcosa dovevo farlo Adesso c'è un dolore di caffè dappertutto Ecco qua Bravo Con una foglia da pasticceria Si può tranquillamente raccogliere il tutto Però prima aggiungiamo Via Aggiungiamo un po' di farina Sì ma da me anche domani E voilà E guardiamo I gamberetti Perché si è sciolto tutto Quando c'è così tanta acqua Come in questo caso Scuola un po' No 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 Lascia che asciughi Perché se li scuolo Poi bruciano A scolarli Abbiamo sempre tempo Ok Non so Guardate l'ora E penso che per le 9 Dovremmo riuscire a fare la palle Passa Tira su È antipatico È antipatico perché oggi ho iniziato a fare il pallet Lo sapete che dicevo che voglio fare l'orti verticale con il pallet E oggi ho dato la prima mano di vernice Quindi è venuto benissimo per me Lui non è molto felice E quindi è arrabbiato Comincia ad amalgamare quello E quindi è arrabbiato con il mondo Perché alla fine Si mi tocca anche aiutarla Alla fine siamo vinto Io sono riuscita a fare questo pallet Mi sta cadendo il codino È il codice per te Allora Vediamo un po' come viene questa pasta Pensavo venisse più scura Più marrone E se non buttavamo in giro il caffetto alla cucina Sarebbe venuto più marrone Come la senti? Ancora bagnata? No, non troppo Adesso devo solo lavorarla un attimo Ok E così facciamo delle papparrelle, delle tagliatelle Potete farci quello che volete Noi facciamo delle papparrelle perché con questo tipo di condimento ci vuole la pasta lunga Ok Allora qua raccogliamo il tutto Soprattutto con il pesce ci vuole la pasta lunga Ho già fatto una pasta con una crema di ricotte e di stacchi È venuta buonissima C'erano anche i pomodorini però non solo le pistacchi Sì, quello è un convenito che ci ho aggiunto io Però in realtà si chiama crema Pasta con crema di pistacchi Ok E ricotta Io poi ho messo i pomodorini a cuocere E già ho messo dentro anche quelli Sì Ed è una cosa veramente buona Voilà, nel frattempo le ha messo Ha messo a bollire l'acqua dove butteremo la pasta Non ha messo però sicuramente il sale No No Bene, infatti Quindi ce lo metto io Il sale e io non andiamo d'accordo Poi quando mangiamo la pasta sentiamo che non sta di niente Ci siamo? Sì, quasi Sì Cos'hai da ridere? No Più che altro perché vorremmo vedere come vengono queste pappardelle, tagliatelle Ok Dici che la consistenza è quella giusta? Sì Sì Fammi amalgamare un po' va Allora Sì La pasta va lavorata eh Perché sennò Se rimane con i grumi Non va bene Io mi lavo le mani Esatto Quindi fate questa operazione fino a che vedete che tutto i composti sono amalgamati in maniera perfetta Io arrivo Ok Allora A questo punto ci vuole un coltello che non c'è Usa la foglia Usa la foglia Usa la foglia Usa la foglia Tagliamo la pasta Perché questa è una foglia prestigiale che taglia molto, non è una foglia per la cucina E cominciamo Vediamo se Riusciamo a fare le nostre belle pappardelle Allora Ok Ok Eh per forza stai girando questo? No Sì Sì ma le fai così spesse? Perché? Spesse no Non sono spesse Ma quanto le hai spesse? Sì 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 Quindi Quindi la metti dentro un attimo in questo liscio la fai diventare un po' meno spessa Allora facciamo diventare meno spessa Comincia il capo Comincia il capo Sì Io sono il capo Comando io Ok Ok Facciamo la nostra Questa Eccola qua E poi la mettiamo lì Sì Vuol dire che la pasta è ancora molle No Ok E' una sensazione E' una sensazione Non lasciatela lì appiccicata Perché se no vedete cosa succede? Perché bagnata si appiccica subito la pasta Per quello va subito aperta e separata Così Non abbiate paura a mettere farina No no Andateci giù Ecco Allora qui è avanzata un po' di pasta Ci togliamo Aggiungiamo all'altra Quindi la facciamo passare un paio di volte Per ottenere Soprattutto se si spezza Fatela passare un paio di loro E' un po' di qua Che almeno rimane più E poi fate le pagliatelle Vi ho detto Prendi la pasta E io giro Va bene Dovete calibrare bene anche la velocità Sì vai piano perché si stanno già spezzando Non esagerate Ok E' subito nella farina Guarda che si sono incastrate dentro E' perché sono appiccicose E' una pasta ancora un po' molle Quindi andiamo a raggiungersi un po' di farina Così la aggiungiamo meno appiccicosa Ok Prendiamo sempre la foglia Ne tagliamo un altro pezzetto Lo mettiamo nella farina Visto che risulta essere un po' molle Ok E cominciamo No? Sempre stai suggerendo cosa ho sbagliato Ci vorrebbero due Ci vorrebbero fare elettrico Ragazzi dovete regalarmi un elettrico eh Sì Quello che ha la Clerici Sì Esatto E' veramente bello Ok guardate adesso come viene bene Molto Questa qua viene veramente bella Ecco perché l'ho asciugata Ok Perfetto Non fatele troppo lunghe Per lo meno per il mio gusto Sì Lui era quello che spezzava gli spaghetti nella pentola Eh Mia mamma mi aveva abituato così E quindi Sono cresciuto con questa abitudine La mamma ti ha abituato male Allora Allora facciamo l'ultimo passaggio con l'ultimo pezzo Ok Lui Qua Ok Non fatele lunghe Eh sì Dio Non fatele Guardo i nostri Gamberetti 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 Perché ormai Io spegno Perché ormai L'acqua è asciugata I gamberetti No! Perché spegni? Perché se un po' brucia no Vedi come è tanto il calore della pentola va avanti Quindi Guardate abbiamo fatto le nostre Pappardelle Vedete come si appiccicano Se non li bagnate subito Se non asciugate subito con la farina Questi sono quelli che c'erano sotto prima Perché non sono state Asciugate Fate così un movimento Ecco E così la pasta si stacca bene Una dall'altra Non si appiccica Che va A questo punto la lasciate qua sulla schiena Qua vedete sempre quello di prima Quel gnocco di prima Mamma che gnocco Ecco Se si forma il gnocco lo mettete da parte E via Poi Prendiamo Un lime Ok Andiamo a metterci Ah sopra i gamberetti Del lime nei gamberetti E poi faccio una cosa E quindi di mestolo Che è un trucchetto in realtà Per dare alla pasta un po' più di sapore Ah un po' di succo anche nell'acqua di cottura Questa è una cosa Così non rimane troppo forte Però rimane ben distribuita Perché l'acqua chiaramente va a contatto con tutta la pasta E' una cosa che mi ha insegnato il mio professore di cucina quando ero a scuola Questo è un bel trucchettino eh Ci metto anche dentro poche ma qualche scorzetta di limone Mh mh Perché voglio che si abbia il sentore anche se non si senta proprio troppo perché poi rischia poi di non veare Se l'ha aggiunto dopo il succo del limone si sentirebbe troppo così invece no Allora ci vado a mettere la scorza del limone e il succo di lime dentro Ok La lascio un minuto mentre bolle in modo che ti da tanto sapore E poi ci andiamo a mettere dentro le La pasta La pasta La pasta come fatta in casa la fate cuocere pochissimo 3-4 minuti non di più Prendi la gul Che gul Ecco la per metterci dentro la pasta Questo stendi No la gul dove metterci la pasta Ah ok ok ho capito Per presentarla Adesso prendiamo Prendiamo la pasta E la andiamo a mettere nella pentola Ok Diamo subito una mescolata Voilà Questo lo fate Questo trucchetto che ho fatto io di mettere la scorza del limone Se non volete che si senta troppo Cioè se non fate la pasta al caffè ma fate una pasta Sono passato davanti allora Se non fate la pasta come la mia ma la fate semplicemente pasta all'uovo Invece di metterci il limone come ce l'ho messo io nell'acqua di cottura Andate a metterlo sotto ai gambetti ovviamente E magari grattugiatecelo anche sopra alla pasta Ok Allora il sale ci siamo ricordati di metterlo quindi a posto Aspettiamo ancora un pari di minuti che la pasta cuocia Esatto La scolliamo La mettiamo nella nostra zuppiera Ok Di portata Et voilà Poi tocco finale Ripeto sempre se volete C'è andata di affuggiare sopra un po' di scorza di limone Ok Io lo farò ma lo farò quando saranno nei piatti Non in questo momento Perché sennò avrebbe troppo tempo per prendere il sapore Io invece ho bisogno che il sapore ce l'abbia immediatamente Questa pasta fatta in casa così delicata Si è anche un po' spezzata Si Non rimane così lunga eh Se aggiungete un po' di farina rimane un po' più solida Allora si spezza meno Purtroppo gli ingredienti vanno anche calibrati mano a mano che uno prepara la ricetta Perché le uova non sono sempre tutte uguali eccetera eccetera Allora ragazzi la ricetta è pronta È già finita Ripeto l'andate a mettere nella bowl Se volete ci grattugiate sopra il limone Se decidete di fare una pasta all'uovo senza caffè Ok Se invece volete farla come me La mettete in una bowl per ripresentarla Poi quando andrete a metterla sul piatto Andrete a grattugiarci un po' di limone Ma solo quando la andrete a servire immediatamente Ok A questo punto la ricetta è finita Facile Niente di così complicato Pubbliciamo dopo la foto Ci vediamo dopo con la foto E domani con un'altra ricetta Ciao Questo? Sì